... Allora, lei possiamo dire che è uno dei testimoni di quello che è accaduto oggi? No, miracolato, perché dieci secondi dopo io stavo dentro la macchina, perciò stavo uscendo per conto mio. Ha sentito il botto, il rumore? Ho sentito il rumore, un'ombra gigantesca, ho orzato gli occhi al cielo, ho visto l'aereo cadere. Quando è cascato l'aereo io sono scappato, la prima cosa che ho fatto è scappare. Come ha visto cadere l'aereo? Cioè cadeva in caduta libera oppure aveva... No, io ero in caduta libera. Sì, sì. Non sembrava comandato, no? No, no, no. È stato un caso quindi che non ci sia stato... Sì, dieci secondi dopo io stavo là dentro. Senta, ma si sente un miracolato? Sì. Senta, ha visto... Da una persona. Scusate, ma è un'emozione un po' forte. Mio figlio è morto un anno e mezzo fa, mi ha messo la mano in testa, mi ha detto scansali. Scusate, adesso non me la sento. Va bene. Grazie. Grazie a tutti.